Presidente Brunetta, c'è stato allora questo complotto, insomma si è scoperto che forse gli Stati Uniti dopo le ultime rivelazioni spiavano anche il governo italiano, è solo una bufala oppure è vero? Mi pare che da quello che è emerso dai giornali, da quello che emergerà, viene fuori con tutta tranquillità che gli Stati Uniti intercettavano, spiavano il nostro Presidente del Consiglio, il nostro governo, i governi europei, Sarkozy, Merkel è già uscito, io aspetto le intercettazioni del Presidente della Repubblica a questo punto, Napolitano, perché se gli Stati Uniti si sono vantati all'occorrenza di poter dover intercettare e spiare tutti, aspetto anche le intercettazioni su Napolitano, perché non è giusto che vengano fuori solo le intercettazioni su Berlusconi e il suo governo, sarebbe bene sapere le intercettazioni non solo del governo ma di Marchionne, della Confindustria, di tutti gli uomini di potere istituzionale, governativo, industriale nel nostro paese e in Europa. Gli Stati Uniti dicono che se serve per la sicurezza globale loro intercettano e loro sorvegliano.